Cari ragazzi, cari studenti, questa è la campanella che suona all'inizio delle vacanze di Pasqua. Buone vacanze, vacanze che sono per voi davvero meritate perché in queste settimane, sei settimane di scuola, avete lavorato tanto, grazie ai vostri professori, grazie alle maestre, grazie a tutte quelle persone che si sono date da fare per non farmi mancare l'istruzione. Sì, voi siete fortunati perché appartenete a una di quelle poche scuole che praticamente ha assicurato la totalità delle ore di studio e di questo andate advenne fieri. Sicuramente avete sentito la proposta del ministro di promuovere tutti alla fine dell'anno. Io cosa dico? Dico che sono fortemente dubbioso di questa proposta. Primo perché dice il fallimento educativo della scuola, secondo perché non è rispettoso del grande lavoro che hanno fatto i vostri professori, i vostri docenti che hanno lavorato per continuare a dare un'istruzione forte anche a voi. E anche per voi ragazzi è comunque uno smacco perché voi avete studiato, vi siete impegnati. Certo, essere promossi così come tutti gli altri sarebbe un po' un affronto, però non preoccupatevi, non scoraggiatevi perché quello che conta nella vita non è il voto, ma quello che conta nella vita è la preparazione. E voi in queste sei settimane siete stati davvero bravi e vi siete preparati, avete studiato, andate nei fieri. Quindi buone vacanze, un saluto alla vostra famiglia e ci vediamo al rientro.